bella alta com'è che non mi ricordo come si balla bella a tutti ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo sul piccolo grande pianeta un gioco eravamo un'avventura avevamo completato il 4 per cento livelli completati uno dice vai facciamo l'avventura noi siamo aspetti a quel la che sta sorridendo solo io quello la che tocca il cazzo andrea gioca da solo io non voglio unirmi ad altri giocatori a nemmeno a me vuoi unirti se non vuoi fecondarti con me no non vuoi compenetrarti su di me no e tu devi però aspetta che rimettiti la skin mettiti skin ok allo scavatore perché sono incazzato me andiamo adesso metterò così non si capiscono a sé appunto che cazzo ha detto il po' di si sono voti lì a destra e sinistra per all'alcanarti dallo schermo ma questo è ancora ai sacco il newton e newton qua parco anche ah sì qua dovevamo crepare nella cappella ah che figo è stato un piccone di papadalino ah mi hai trovato si godo è sacciato tutto ma che cazzo mi prendo io godo vaffanculo salti meglio di un saltaposso lo sai eh eh per attivare il saltapiano blu ah blu 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 ah blu bevete lo blu ar ar avevo dei problemi beh eh senza che c'è quello va sopra vaffanculo nooo nooo e io come arrivi non ci arrivi ti godo scala scala puttana va levati dal cazzo ce l'avresti fatto vaffanculo si si è partito ma r1 ah poi puoi e prenderli ah e però io sono tutto rotto grazie bro ma vaffanculo cioè guarda non è stato io sto sbloccando cose eppure io il nuovo costume nuovo caso che non spingi per farlo con più brio eh che cosa ho detto per più brio codio hai il troncone diamati dal carro ok spingi spingi con me che ha detto ma non ho capito dobbiamo tirare sto coso ok ok spingi tira tira ok lascia così ah no ma dobbiamo prendere questo per parkour suca vai mi ciulo tutto come che non servono a niente quelle cose in realtà però senti ah si scendi oh la combo mi ero baggato nel ponte si perchè devo perchè devo perchè devo afferrare la palla ah alle palle oh merda aspettami ah si alle palle di nono pino mi sono appeso ma che cazzo doveva ah è vero io sono il tipo a sinistra gli stavo guardando ma perchè c'è una cinghia di di tuo padre oh mi sono vendo il flashback ah quando ha perso il benevento ma cosa dobbiamo c'è un coniglio spazio mi sa che devono utilizzare il gran vecchio trucco ah ho capito cosa dovevamo fare oh oh ovvero era molto figa ah uncharted 4 simulator esatto formaggio oh anche la grafica è uguale eh ma dei cinesi è questo ma dov'è putt ce la fai ma ce la fa no volevo prendere quello però mi sa che è imprendibile bro perchè sento tuo padre con le cinghie ah in due porco oh cosa cosa eh non sto capendo che cazzo devo fare sto ciucciando tutto anch'io danger oh merda ci hanno presi ora torniamo sulla mia aeronave putto bastardo da ci ha preso mo ci vende al mercato nero ruggieri e ciao sei dire ai ok ho vinto nessuna vita ha persa ah perchè stanno le life quindi vuol dire che stanno robe pericolose si si devo dire che che si io mi ricordo che potevi agitare il bacino però non mi ricordo come si fa no io mi ricordo e mo te lo dimostrerò davanti al tuo cazzo hai il braccio ah si me lo ricordo ooooo no non così si c'era quello c'era quello proprio di bacino che frocio guarda 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 che brutto aspetta però vorrei prendermi un attimo per la customizzazione del persona vai anch'io mani metto una mazza ieri ieri materiale ah posso essere il bambino col pigiama a righe ahhh bello bello così così si così si che si materiale aspetta veda che mi devo customizzare anch'io i compagni di cospirazione capelli ah no ma la bocca questo è il nostro primo obiettivo mi sono caccato in mano oddio ma sono aerobrine guardami fra si ma il mio che si ma il mio che si ma il mio che ha hai mai provato a staccare un adesivo da un gatto? Susan non ha gradito per niente comunque nell'universo di Little Big Planet seguiamo ben altri stili di vita già e questo significa che potrai piazzare adesivi dove vuoi persino sui tuoi migliori amici o sui più temibili nemici ah pure su di te posso attaccarti gli adesivi in culo e selezionare adesivi e decorazioni usando la levetta sinistra e il tasto azione dopo aver scelto un adesivo comparirà all'estremità del cursore pop it e potrai incollare con la levetta sinistra la levetta destra al contrario e possiamo andare lascia lascia vabbè ok ciao com'è che si faceva il cazzo ah per spostare l'adesivo e premere per posizionare va e te lo metto proprio infamato com'è che si fa? eeeh quadrato e poi su adesivo me lo incolli in bocca come faccio a incollartelo su wicker? guarda me l'hai buttato in faccia l'adesivo lo posso dezoommare ah mettimelo in faccia e come a una vecchia ficca nera ah un adesivo un adesivo credo eh sì ma dobbiamo mettere lì tipo che adesivo donno aspetta questo va credo tipo qui e infatti ebbe tipo ecco questo no toio questo se magari riesco a dezoommarlo ok va qui ma come si fa a dezoommare non te lo dico oh dobbiamo raggiungerlo prima che nana pu delivery quella vecchia ci amatta si è meno fatto che cazzo devo fare? oh porco eh eh porco che cazzo è? il turbinito eppure ieri funzionava oh no si è rotto cos'è? la mega arma è super sburo ah ce l'abbiamo tutte le due oh si come me la ficco non ce l'abbiamo mai ah usa la levetta a sinistra per evidenziare l'oggetto che è positivo e come la sburra com'è che come si a porco di là di là di là eh non è che non spararla nello stesso verso ecco non è che lo vuole tipo dall'altro lato è infatti sei ricchione o che ha fatto? qua provo a dare una bella soffiata a quelle casse ahia ma 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 sei morto? si ma ma provo a morire anch'io ah ok ah ok ma perché ero morto? e ti avevo schiacciato tipo e mezzo le cazzo no non è spingere sono giusto ma ah no no ehm non vieni qua ah ah spiri con l1 fai il aspiri e risucchi porco dio no come respawn eh non respawno vedo sentete che giù eh ma che pal sensazioni più meravigliose della nostra esistenza ah più migliore assai pensava che fosse colpire un nuovo sordo con una mazza da cricket poi è arrivato il big planet e gli studiuti hanno deciso che incollare un adesivo era anche me e l'effetto presto mio caro amico Nanabuda non aspetterà certo noi ok che avventura divertente che sto e tu vai a morire che avventura belli vai a morire in un livello dove non è programmato sei respawnato ah ero questo io ma perché io gli occhi bianchi e sono tutto rotto vuoi chiamare più amici più siete eh ah più siamo meglio è ah per due vai sburra come cazzo ah ah è meno in culotto io però ma vaffa oh ma che c'è da ma ti sei succhiato tutto tu e io c'ho il succhio facile si si tu succhi tu succhieri succhi dobbiamo attivare ah vai sopra grandioso entra con me in questa super stazione di inquietazione entri dentro di me ma hai sentito che cos'è stazione di penetrazione ah penetriamo allora oh si eh si villasbo oh vedi è lo spermatozoo questo vai sparando e papà ah ma hai sentito che ha detto papà ah ah stava cummando dentro suo padre esatto forse era il contra ah suo padre li stava entrando con lo spermatozoo xiluro in culo una supposta era quella l'amore si sta diffondendo ma da dove l'hai capito forse dal fatto che lungo duro e venne sparato in culo vedi quel raggio di incaricamento guarda la grafica guarda la grafica ma non cosa basta è su postone eh papà ma è stato più lento che turbo ma chi è quello è i titani i titan ma chi è quello ma perché ci sei tu e non io che palle ma chi è quello perché ci faccio in una sega ma posso tipo fare dei mot no eh torna con quei denti vai proprio a cacare ma perché hai i baffi ma perché hai scritto la dai stavo per scrivere io gay cioè ti rendi conto che quando io ho premuto G sulla tastiera per scriverlo tu hai scritto gay ah possiamo andare ah non c'è più newton god non ci rompe più le palle ah andiamo che cosa fa ok ah possiamo andare cerca di non crepare possibilmente ma dai ma che scherb ma puoi non morire per favore ma mi lancio aspre mi sono scordato tutto quello che ci ha detto newton fino ad adesso salta vabbè Isso già si era capì r1 a ma sono pure le spiegazioni certo perché se uno sta ma in qualsiasi livello sono le spiegazioni pure nei livelli cento ma ma come cazzo le presa quella ma che dobbiamo acqua acqua vieni 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 dai che è cazzo nato un aspiro tutto dove cazzo stiamo andando vabbè addio che tolgo la pistola ma come si toglie la pistola no no qualcuno mi fa tutto il coso godo ora vedrai la mia avventura cos'è quel cos'è quel cos'è quel cos'è quel cos'è quel cos'è non ti hanno insegnato a bus o merda mi sa che ci vogliono incula vieni vieni attento no ma c'è la ea fu al fral brucia dal digeritore nuovo oggetto che cazzo lo fai non lo butti in testa lati cos'era quel rumore di proiettile ma dobbiamo andare eh sì ma dove cazzo sto io no sali qua sopra no vabbè sono inutili ma sono inutili con le cose ok vengono due donna di là sono inutili ma non no no perché e non si capisce succhia 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 così spara spara la minchia ok vai no è ma se faccio disabile vabbè vai avanti a mi faccio la mia no devi 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 raffreddare vai 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 ok vai ora arrampicati veloce veloce ma che succede se è caldo e ebben mori ci provi proviamo non possa arrampicarmi vi faccio del male non fai niente ma dove sei tu ma ma sei morto e si ok vai soffie ok dove vai feconda no devi premere x eh ho premuto e vai vai a destra a destra ah no eh no vai a destra ah no specie sto coso o a destra la serve per prendere ah no la si torna giù e dove cazzo domanda aspetta devo fare un qualcosa con questo ah devi incastrare ah eh ok aspetta ah si vai secondami ah ah oh si ti ho partorito aspetta vedete che ce l'ho stronzo la sopra che vai vai la pentola la pentola no dovevamo aspettare aspetta quanto dovevamo aspettare salta sopra ok stai fermi madonna santa si però davamo da solo sto cioè da sola stai da sola ma sei morto oh guarda sono sono vivo sono vissuto non ho capito un cazzo dovevi soffiare quelle palle ok minchia ma sono i tuoni che stavano l'altra volta a beri oh il boss epic boss fight ma se li stai facendo la visita della buona no stavo scherza porco di salta salta ah si va bene ah ho capito wall jump no 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 ah ho capito arrampicati eh si oh eh no troia oh mer no 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 ok sono vivo ho risicondato e sono già sopra e come salgo io aspetta scendo ti aiuto ok ok vai di qua parola corri corri non so perché ai perché sei fecondato a non so vai via ma basta morì dobbiamo no così no è capito esatto e sino me lo cazzo E' quasi pronto in tavola Ma devi mangiare Perché è quasi pronto in tavola No Io Sì Guarda c'è scritto nel caricamento E qua si è pronto in tavola Mimmon Annes vuole unirsi a te Glielo permetti No Eh cosa C'era uno che si voleva unire E io ho detto brutalmente no Ma hai fatto benissimo Oddio c'è un gattone cicciona Le voglio io con le palle Porco Ma ti ha preso ma Si va bene ma qualsiasi cosa muori in sto gioco Ecco appunto Direi di non fare contatto fisico con quelle manone Belle grosse Sì ma c'è l'epic boss fight epic Porco Ma cos'erano quegli effetti flashlight Eh sì Cosa Ce l'epic Eh sono morti Ah se rispondono Sì ma che dobbiamo fare No Ok sono vivo Non lo so Ah i cazzi Forse No Cosa Ah ti ha spinto nel fuoco Ma cosa dobbiamo Ah dobbiamo raffreddare quelli insieme No spero ma io li sto riscaldando Eh sì riscaldare Porco Credo Come cazzo Come cazzo Raffredda o riscalda No Gira Ah ho capito Quando le sue mani si scontrano Dobbiamo fare il sì che sia caldo Ah Occhio alle palle Aiuto Porco Ah è vero Posso sputarle via le palle Quando è che rientro Devi saltare Premi in su e salta Eh Mannaggia Che cazzo No abbiamo perso Ripeti Abbiamo finito le vite Oddio Gli occhi Ludo Crepa Soffoca Schiatta Sì Affrontare una delle missioni Multigiocatore Di Bunkum Sono perfette Per un'intrepida Battuglia Di pupazzi Brannosi Ciccioni Grasso Ah sei pronto Ora niente Stronzate Io farò Io farò Io sarò più Stronzo Del solito Questa è la boss fight Suprema Meglio Meglio Oh è più difficile Skyrim Non morire prima Come Ok ora però Tra yardiamo Perché Cioè non voglio perdere Contro una lavatrice Contro giocchino Motor Ah ma riscalda Ok occhio alle tazze Perché mo ti inizia a tirare di tutto Ok muori Ok ha fatto i cosi Ok ora salta Putta Ma un po' C'è Ma ho saltato Un po' in ritardo Però ho saltato Un po' Riscalda Adesso una polpetta Oh Non me le tirare in bocca Ok salta salta E ma Salti tre Ma dove minchia sono O salti tre ore prima O salti tre ore dopo Oppure non salto proprio Ok Ok si è scottato Il primore Deve bruciarsi Eh ma va Merda Le palle Vai te le sparo addosso Merda No Vai versandria Vai vai versandria Porco Ok Riscalda Ok salta Aia No Eh come facili Eh che ricchi Eh si Eh si Ha usato il mega colpo Ultra Porco Eh si ma son Risponato No vabbè ma impossibile Ma è il boss più facile Questo Di tutto Di tutto Oh Epilessia Va bene ok lo ammetto Al momento Zero follower Se non Godo Crepa Schiatta Esplodi Sono sempre stata La tipica ragazza Che viveva Per dei Nessi Su Instagram Allora Sì la ragazza Perché Dobbiamo Traiardare Madonna Perdiamo sul gioco Dei bambini Madonna Ma non possiamo perdere Sul gioco Dei bambini Proprio Merda Morco Vai Traiardi Ora Eh si La patumi Era vivente Allora Mo Traiardiamo Allora Non serve Riscaldarlo Troppo E anche Basta che Non diventa Blu totalmente Basta che Ogni tanto Vai E fai Così Ok No Ok Ora Nel fuoco Ok Salta Bravi Codo Si è uschionato Ora riscaldala Perché è freddo Cosa Oh no Le palle Le polpette Cerchiamo di Mandarle Tipo Minchia Che polpette Tipo Esatto Nella pentola Ok Ora Stai al centro Salta Ok Quando è che si brucia le mani Ok Ok No Salta Oh Sì Vai riscalda Riscalda Che di là è freddo Si Occhio Occhio Emo Tira Questa è la mossa peggiore Che fa lui Proprio più rompicoglioni Le palle Ok Ok Sono vivo Salta Eh sì Vabbè Ma Porco Ma è morto Ah sì Perché si è bruciato male Pudo Crepa Ok Di nana food Minchia È stato più difficile Di blood porn Vabbè Di blood porn Che abbiamo registrato Fra Suona la campana Sono la campana Vabbè È stato più difficile Nella codeina Nelle vene Cosa abbiamo No Nella codeina Delle vene Non abbiamo manco Scalfito il boss Ah Big mama Big mama Step mommy Ah quindi è cattivo Bastardo Ah mi è ammazzato il figlio Ma muori Ma quindi mi stai dicendo che Che sta Cioè C'è come Cattivo Ah ma Ma è come Frey Abbiamo fatto come Come a Frey Che ne abbiamo ammazzato il figlio Mi sa No ma Newton è il figlio di lei Ed è cattivo Ah Vedi lui è ma Eh sì Stautizzano le Le cinque sfere del potere Mo Porco di Mo assorbe tutto il potere Delle cinque sfere Mo diventa potentissimo Ma guarda con che sguardo E che bruttezza La guardi Cioè sei una tipa con i baffi E i denti grossi Sta assorbendo la potenza dei titani Ma in culo Ma dentro Ma dentro Tipo potentissimo Stitcher Oh Eh sì Eh Eh Cora che brutto che sei Io devo andare Ma c'è il cazzo Ah no Mi sa che è un addio E quindi ragazzi Se vi è piaciuto l'episodio Lasciate un like Iscrivetevi al channel E ci vediamo a un prossimo video Ciao Sì 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 Anzi no Ciao 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 Grazie a tutti.